Sono 299 gli impianti di videosorveglianza oggi attivi in città e saranno circa 500 una volta completate l'installazione e il collado dei nuovi impianti previsti dal programma operativo nazionale Sicurezza 2007-2013, che sarà completato per fine mese. In Commissione Diritti e Sicurezza, nella Sala Nunes di Via Verdi, alla presenza dei presidenti delle diverse municipalità, l'assessore alla sicurezza Narducci ha riportato i dati riguardanti la realizzazione del nuovo piano sicurezza della città di Napoli. L'assessore ha spiegato che il nuovo PON 2007-2013, per un valore di 20 milioni di euro, prevede l'installazione di 346 telecamere e ulteriori 68 attraverso un'estensione dell'appalto, che si aggiungono alle 80 che furono installate nell'ambito del PON Sicurezza 2000-2006. Con il nuovo piano saranno coinvolte molte delle zone periferiche della città, che non erano fin qui coperte. L'assessore Narducci ha inoltre precisato che i siti dove installare sistemi sono scelti dalla Prefettura ed ha anticipato che prossimamente anche la Regione Campania rifinanzierà il progetto Turismo e Sicurezza, che consentirà di installare nuove telecamere nel centro storico. I rappresentanti delle municipalità hanno segnalato diverse situazioni critiche, soprattutto sullo sversamento illegale di rifiuti, e ha auspicato che al più presto vengono ripresi i comitati sull'ordine pubblico e solidarietà, che sono un importante momento di coordinamento tra le istituzioni e le forze di polizia sui territori. Grazie a tutti.